ciao a tutti ragazzi e bentrovati su crystal cross gaming per l'inizio di una nuova serie completamente nuova che la intitoleremo retro gaming qui con noi c'è il buon hobbie che è un mio caro amico che con lui abbiamo vissuto un sacco di vicende varie ed eventuali abbiamo sputtanato tanti soldi alle sale giochi esatto esattamente abbiamo sputtanato paghette di intere generazioni nelle sale giochi tantissimo e volendo iniziare questa serie nel migliore dei modi quale modo migliore se non metal slug il primo in assoluto non mi chiedere di che anno è perché non me lo ricordo assolutamente di che cavolo di anno è ma quale 95 sicuramente più tardi più prima se con queste cuffie messe così sembri uno sciamano di una tribù africana di quelle che non hanno mai visto ma il caldo è africano quindi sì esatto va bene ma io io sono immune dal caldo in questa zona del corpo non è vero va bene allora ragazzi spero che la serie vi piaccia noi andiamo subito due giocatori vai quanti ricordi che bellezza cosa no per lei con le metà sa due vediamo quante volte riusciamo a morire in maniera in vera e conda si però non iniziare a ferrarti subito 30 le ore ma sei buono no ma è buono no guarda ce n'è una lì aspetta che no dai no shotgun non la voglio io 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 fermati fermati tranquillo è chi ma tu vuoi quello io no aspetta che io stia la mia questa è bellissima vai 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 elicotterino brutto no pensavo di si puliò oppla e vabbè ma che bastardi aspetta che non ce l'ha io non ce l'ho io non ce l'ho prendilo tu il il carro armatino scoppiare a posto bene il gas piglialo tuo che io me ne faccio poco guarda quanto ce n'è in giro massimo gas gas vai a te ma dove andate venite qua qualunque cosa avviate le voglio ma dai ma mica uccidi me no le bombe ci saranno i musli eh tranquillo quello l'avevo visto a posto che stiamo facendo saltare quello là sopra che gira con la manovella non ho mai capito la funzione vai 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 bombe 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 oh tira gli missili eh tira i missili a posto è morto si vabbè dai il primo livello è abbastanza facile dopo tutto sono morto soltanto due volte guarda che tristezza hai liberato smacazzami smacazzami eh smac che sarebbe il sergente maggiore accondiscendente si probabilmente è quello senza dubbio mi confondo aspetta che lui non ci sta uomo e donne infatti no aspetta che voglio distruggere sta bandiera eh ma in realtà non c'abbè eh sì sì benissimo grazie che sia da vabbè vabbè che non è orientabile come non è orientabile eh no puoi sparare solo orizzontale o verticale fine sì mi stai lasciato oh oh io come morì mio aspetta parti oh ogni tanto mi sbaglio con te ho capito ma io ho la H2 eh pure i missili comunque no li ho presi tu che cosa? i missili? sì li ho presi io eh da ora no no ci stavano altri aspetta eh la vuoi tu quella? la lascio la piglio io no c'hai i missili fermati sali 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 lascia stare ma go fa la fonda vabbè mai che stanno davanti adesso che sparano fuori la roba certo eh ho capito ma io io la H la volevo oddio ma cazzo sono fermati fermati te lo sali cazzo cazzo ho fatto oh basta sono calato pure io no no pure di sale fermati tranquillo tranquillo con questa con questa fa così e ti ritrovi sbram così e c'hai un'altra volta i missili? no adesso ce li hai tu mannaggia la miseria oh mio dio oh mio dio il panico non volevo morire da chi è che vuole? oh 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 sono riuscito a salire non so per quale mistero no no cazzo la extra volevo io vabbè dai eh vabbè dai spara spara ma certo che giocare a metal slug con la levetta analogica è è un culo si lo so purtroppo è così però le 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 freccette del controllo xbox non so parlare aspetta vai con me no re mi si vabbè attenzione qua c'è un simpaticone lo sto colpendo si con la s dovresti ammazzare velocemente a posto mi sono rimasti 9 colpi però no era un boss intero o morivo io indovina chi è morto ma tu ancora non sei morto ma non è ma va qua tu come sei un cazzo di gufo ma tu ancora non sei morto ti toglie a cazzo ma non direi che pure le armi Pietro no no pigliati tutto si le monete che andrea ma te l'ammazzitosa ok mazzati sta gente arrivano tutti quanti guarda ecco lì chi è chi è no è stato mazzioso che bellezza no fermati vabbè no il cannone lo volevo grazie fermati prendi oh questo adesso io morirò ah tu hai la pistoletta molto da dove arriva? ah da qui ma quale Hitler ma Hitler fra tantissimo tempo no assolutamente no ah no se faccia lì mister muscolo eh bastardo ah è vero si quella sorta di Rambo pelato è vero verissimo è bastardo io come mi dovrei sparare questo esattamente la cosa mi la devi confinare eh si oh ma che cavolo ma certo che oh oh ma c'è il calo di frame rate pure su metal slap che cavolo è ops ho tirato bombe a cavolo e io sono morto di nuovo comunque oh perfetto ora con la pistola mi sento un sacco più potente vai oh ha funzionato ma quali missili in un certo caso ma era il pelato non era il pelato no no il pelato è di un'altra cosa non so perché mi ricordavo anche io il pelato forse un altro slag si probabilmente un altro metal slag c'è qualcosa che non va abbiamo sbloccato l'accident eh di qualche genere io tu ah l'hai preso il gioco come l'hai fatto super power weee eh questa cosa guarda ma ho sempre messo in ansia o scena grazie ho il pollo eh si il metal slag si perché vabbè rendi utile l'having machine gun cioè alla fine l'ho ucciso io con le pistolette ah è proprio la cosa è la levita del cazzo eh lo so lo so ma dove vuole comunque c'è lo spirito dei noi del passato che si sta tipo mettendo le mani nei capelli ah ho la h che bello ah le persone che sono morti qui ok ok mari premere i pezzini premere i pezzini premere i pezzini ora vai a uccidere eh oh oh e che dannazione dannazione oh oh ok vai piglia la tua quella h prendo anche il rosco grazie weee aspetta ci basco bastardo con l'ansia di casca mamma mia coltellare to zingaro così a prescindere zingari è stati zingari è stati il zingari no no cioè le tattiche di guerra di colpire eccolo aspetta questo poi quando muore droppa due aiuto di colpire i pezzini sono stati iniziali iniziali di colpire beh, a posto ma poi diventa la rossa si ma James parata da un tattopombe? no si, a posto dammi le che cosa? eh no ma poi già c'è l'iQ oh guarda, guarda oh chi piace? oh vai oh, bella mi piace da essere, guarda si io voglio i funghi si si perchè con i tuoi colpi risolvono qualsiasi cosa guarda, in effetti no, no, no ma quanti ne sono? ma come ho fatto a colpirmi quello? bastardo stai prendendo cose al nastro guarda 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 che animazione orribile di quella cosa non me la ricordavo spai, spai, spai ci stavo cosa? no spara fuori solo oh ok bella tattica mi piace questo non muore ancora c'è no dove andi? no no vabbè no, le bombe sono utili anche per me no no e spara gli erai io con la pistoletta mi sento inutile non lo so vedi? mannaggia santa disperazione aspetta, uno forse non riesce a scendere sotto eh attento caro armato ma perchè ho tirato le bombe e non l'ho colpito? ma dai bastardo oh finalmente il sound heavy machine gun di eh wow spermi questa era la scuola allora ma la volta? eh e quando mi spara così bisogna togliere questo ok io intanto farei una bella combo allora io mi scarico ecco tutte le bombe che ho intanto devo fare la stessa cosa che io mi stavo ah mi sa che bisogna distruggere prima quelli di lato si oh perfetto oh perfetto la combo proprio che tristezza vabbè se non altro ora abbiamo le bombe che pacchetto di convenienza no no perfetto no 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 ma veramente siamo forti mamma mia ragazzi non abbiamo liberato nessuno sono quasi travolto dalla tristezza sono quasi travolto dalla tristezza ma non so te vai con la chief man TANIO 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 ma vaffanculo ma vaffanculo fammi via la H adesso oh oh sto livello non me lo ricordo per niente coltellate ah la coltellata l'ho presa io però ti zingeri ti zingeri ah tu sei andato dritto con oh mio no vabbè ma che prendi le cose e poi muori mi raccomando tu ti stavi per fregare la mia di macchina ma beh mi sei morto addosso che dovevo fare aspetta BAM ah ah bel colpo oh ah 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 tanto oh questo giro armati ti faccio rullare un po' il mio eh si però poi i carri armati tornano dai 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 perfetto direi che ci siamo insomma questa merdante come oh eh scu guarda non l'ho fatto apposta ci sono cascato sopra oh psss ma mi sa che i carri armati spawnano in continuazione sca oh stai recuperando tutte le morti che ho faccio eh 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 ho messo ho detto vabbè dai per una volta non sarà un'arma in incredibilmente potente invece sì no no figlialo no 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 a posto Scusa la H però la B, non la preferisco alla stragrande Oh, c'ho un sacco di Abimachine Gun Aiuto Adesso copriamo quello Bastardo Quanto bello è sto gioco, dannazione Dentro, prenditi il gas, guarda E' servito, in effetto Ah, figlio di cannone, usalo Mia Aspetta, lo voglio Almeno se non si Ma lo senti a te Sì, sì Wow Ah, giusto No, 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 no Cacchietto Eh, sì La vaffa Ma perché ci sono sti Sti blocchi Improvvisi, assoluti Oh, perfetto Basta LCT e Cuba PVT Gilgamesh Abbiamo salvato Gilgamesh, ragazzi Adesso io non capisco però perché il gioco fa così L'hanno ottimizzato con il culo Ah, tu dici che c'erano cose Eh, in effetti sì Bella Vabbè, uno sacchiotto direi che è una buona ricompensa per quello che abbiamo fatto Attendevo lo zigaro Anche il serpente direi che ci siamo, insomma Quindi è bene Ah, l'hai presa e sei morto un millisecondo dopo, immagino Sì, grazie Sì, ma in teoria dovremmo cercare di volire il meno possibile No, così tanto, cazzo Mannaggia la miseria Basta Oh, vabbè Ah, flame Ma cazzo, non dovessi diventare ciccioni? No, no, quello è Metal Attack 2 Ehm, mi ha dato io Non piglio io? Sì, non c'ho Va bene Così sia Oh, che ho Fammi tutto mi piace Ah, le macchine le posso distruggere? No, le puoi distruggere Sì, ti pu colpi, perciò Non conveniva Beh, il... Sparo anche Ok Ok E vado, io sparo dritto per dritto Oh, bastardo Non si sa come l'ho evitato E adesso ti ho pure salvato il culo E adesso lo prendo Notare il gattaro dietro? Il gattaro Ho visto? Ah, sì, ho visto Oh, e basta Mi ricordi di che lo stiamo rifacendo? Cioè, queste cose mi mettevano l'ansia Con i gettoni Tipo di questo Beh, c'era più ansia con i gettoni, scusa Grazie Ecco Adesso mi sarebbe esecuito Però Oh, e che cavolo E vai giù Oh Devo sparare su poste Tappelle rosse Oh, e che cavolo Oh A posto Mi ci ho voluto un po' Oh Guarda Ah, è questo? E sta di zingheri Non muori Io ho sperato qualsiasi cosa Eh, lo so Capisco No A posto Mi ho visto Con tutte le bombe sul cancello Che è quello? Ma potevano chiamarlo Meta slug zingher edition Noi ho visto Che il coltello stanno Ma dieve il machine Ah, qua arrivano missili a bambera Ah Ah Aspettate questo Oh Oh, che stronzo Eh, vabbè Questo lanciava le fiamme Eh, può essere Eh, può essere Che è? Sono morto Noo C'aveva ancora un sacco di bombe Da tirare È bellissimo Quando sei vicinissimo E tiri le bombe E ti fa mitraglietta Sembra che fai Ma che burto Che devo salire Che bello Comunque ragazzi È vero Questo gioco È un tuffo nell'infanzia Iron no cone No can Oh, final mission? Davvero? Oh, aspetta Salvatore Salvatore Oh, svaldo Oh, svaldo Oh, benissimo Ah, io Ah, io Io ammazzo i soldati Questa volta Si spara un po' in alto? Che c'è? Non lo so Più avanti in alto No, non c'è niente Non c'è niente Non arriva Qui vicino Le poltellate nere Ora si ingredisce Qui No Speravo che Oh, mamma Forse era meglio Se uno dei due Andava sotto Oh, oh Cacchietto No In testa l'ho preso Grazie Bene No, no, no Guardi, ciacca questo Quanti gettoni Ipoteticamente avremmo Ma io mi ricordo Che una volta E' ragionata Da me canto pro Che l'ho finito Con un gettone solo Io mi ricordo Distintamente I due gettoni a testa Con cui l'abbiamo finito Una volta Aaaaaah Ma come è che una volta Era Guarda E io non ho avuto Questo volo Tipo che Per un flash Deveva non Veramente Eh Sì Madonna mia Muori 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 Oh, per te Mi ricordo che ti porti Due gettoni E le imprese Sì Decisamente Però Se vuoi Quando le finanze Scarseggiano O così O così Dove il cazzo Scappi No 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 Io Non è colpa mia Stavolta Ah Così Sì Voglio l'S Voglio l'S al volo Sta cascata inizia Ma c'ho l'S Ma c'ho l'S pure io Mi sa Quindi è Molto poco utile In questo frangente Eh Non so cosa fare Perfetto Questo mi ammazza sicuro Oh Ma che è Ah Ma ci vado io Certo Tanto io Con una pistoletta Pietro Scendo quel cazzicoso E io uso la pistola Perfetto Che fa sta maledetta Vale scoppia un po' quello Possibilmente senza farlo cascare in acqua Per l'altro Ehi Ci sono per l'amore Ah sì Ci sono per l'amore Sì 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 Non penso che dovesse andare a cascare No Per niente Come cavolo hai fatto Soprattutto No Ne ho la più pallide Sono cose che coeli Sono cose che coeli Io li sto buttando tutti Salvi No 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 Perché dove Meglio farlo Oh Dio Mi sto alassando Ehi Tu Oh Dai Guarda Non riesco a sparare Oh Che bella l'animazione Del bocce Oh Insomma Altra si è sparato a bambera Ah e hai fatto bene Continua a sparare a bambera Voglio la scimmia e il pesce Sì Sì No Non puoi Riesci a te Da la manzana Ma Cosa si è Questa è mia Quella che io Oh Un sacco di bombe Nooo, finito Munizioni No, 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 no Quello che arriva... Nooo Guarda, guarda, guarda Stanno messo di zingheri volenti Ma... Non lo so Ah, forse lo so, ok Lo voglio io, me lo sono meritato Grazie Devo dire che... Ma senti, ma che cosa gli raccontiamo noi con le pistolette? Questo è il sergente di... No, mi sa che è proprio lui Ah, ho finito pure le bombe, apposta Beh, perché non è veramente... Cioè, boh, è una tipo caricatura Ah, io ce l'ho anche Ma non è vero, eh Tu ce l'hai, che buono Oddio, questo pistoletto, lo ammazziamo dopo domani Davvero Scatole Neanche le bombe, sappiamo Oh, 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 oh Mi sembra gippi un po' a cia Che fuga indecorosa che ho fatto Mi fotonici, guarda che roba Eh, sì Eh, tal bastardo Oh, dieci bombe non hanno... Eh, vuole tirare davanti Basta Ok Bene, 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 bene Scatica tutto, 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 tutto Oh, 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 aiuto, no Dai Eh, dannazione Questo è l'ultimo del mio pistoletto Questo è il boss finale Eh, ho finito... Tutta l'h Bentornato del mio pistoletto Oh Eh, perfetto Guarda, meglio così Mi si è stato più dito Bene A posto Ops Mi sa che... Ah, no Finito? Ma penso che ci sia il livello... Dopo? No E ora, fai... Final mission complete Ah, poi c'è questo Ah, i due Ah, è finito Va Eh, sì Eh, sì Finito Vabbè Ma me lo ricordavo un pochettino più lungo Forse era il due che... Eh, il due è lungo Il tre è lunghissimo Il tre è lunghissimo veramente Infinito, mi ricordo Eh, il tre Il tre dura veramente un sacco Va bene, ragazzi Allora Direi che è stata una figata Che cosa cavolo è questa cosa? Dimmi che è la prima volta che lo vedi in vita tua anche tu Se l'avevo visto L'avevo anche rimosso Eh Sound Haya Jim Belushi Vabbè, comunque sono i titoli di coda Ce ne possiamo anche fregare abbastanza Ma allora un po' di nuovo Cos'è quello? Guarda che casca in ciotto Ma che... Così E sto cercando di vederci una poesia in tutto questo Ma sta fallendo questa cosa Tu ci vedi un che di poetico? No Che modo barbino per tutti guardare i viettori Vabbè, allora ragazzi Intanto comunque noi ci salutiamo Questa è stata la prima puntata di una serie di retro gaming Che non avrà una programmazione vera e propria Quando abbiamo modo Quando troviamo un bel gioco da fare E quando ce ne va Portiamo una cosa sul canale E però lui Lui Hobby È uno dei miei migliori amici E giochiamo insieme dai tempi in memory Di almeno 25 anni Tipo Con tutta probabilità Quindi sì Non mi fa sentire più vecchio Di quanto già non lo sia Dopo aver detto questa cosa Grazie E Comunque sì Lui sarà presente un pochettino di più Sul Sul canale Perché cavolo È La persona con cui ho giocato di più Nella mia vita E ancora nel canale Non era comparso Ma perché Ci chiamo troppo Ah perché Ci chiamo troppo Però per cazzi nostro Esatto Però Però Insomma Quale migliore apparizione Se non finire Metal Slug insieme Dopo tipo 20 anni No No Più di 20 anni Oh Intimo Ma Sì Ah aspetta Ma qua mi sa che non repiscono gli alieni Può essere? No È sempre sul 2 questo Però lui guarda le stelle Oh E ha preso l'aeropino in mano Quindi adesso Sta lì Eh sì Fin Ma perché nei giochi vecchi C'è sempre fin? Perché l'hai pesato Ah Non ci arrivava con lo spazio I giochi costavano 46k per fare un gioco Game over Grazie Ah ciao Va bene ragazzi Dai Ci possiamo salutare No Che fai? Che fai? Che fai? No no Non fare quitta adesso Aspetta Fammi salutare prima Vabbè Ragazzi è stato un piacere Spero che vi siate divertiti con questa prima puntata Fatemi sapere nei commenti che ne pensate Ma non ce l'ho di sapere non ci fai con cosa Se volete vedere altre puntate di questa serie Probabilmente sarà Metal Slug 2 La prossima E dai Ritorno Noi ci vediamo presto In un qualche momento Questa serie salterà fuori quando meno ve l'aspettate Tipo va Come una bomba Come una bomba Senti di cose poco politicamente corrette Ne hai detto un sacco durante questo episodio Comunque Troppe ne sentiremo ancora mi sa Va bene Bella per tutti ragazzi Alla prossima Ciao